Buonasera a tutti, è inutile dire che sono emozionato, è che non sono abituato, scusatemi, è probabilmente propenso a parlare davanti a tutti, tuttavia per la prima volta sento di doverlo fare, doverlo fare per il mio paese, per una persona che indubbiamente lo merita, per Massimo Battaglia, Massimo Battaglia lo merita, perché è una persona capace, determinata, umile, speciale e nello stesso tempo una persona normale. Non posso che sostenere Massimo Battaglia perché so che votando lui è come se votassi di me stesso, è come se votassi per ogni singolo cittadino di Campo Felice, perché Massimo è uno di noi, Massimo è tutti noi. Sono sicuro che quando Massimo diventerà sindaco di questo paese, perché lo diventerà? Sarà veramente il rappresentante di tutti, non ci saranno cittadini di serie A e né cittadini di serie B, né padrini e né figliocci, né zii e né guggini. Ma tutti saremo con lui nella casa comune, tutti saremo rappresentati da lui senza privilegi, con il pensiero e l'azione rivolta sempre a un futuro migliore per tutti. Mi è doveroso spendere qualche parola anche per il nostro gruppo, per il gruppo che si è unito attorno a Massimo, che non è un mucchio di persone prese così a caso, è un gruppo di persone...